Sant'Ignazio di Leola fu anzitutto un uomo di Dio, che pose al primo posto nella sua vita Dio, la sua maggior gloria e il suo maggior servizio. Fu un uomo di profonda preghiera, che aveva il suo centro, il suo culmine, nella celebrazione eucaristica quotidiana. In tal modo, egli ha lasciato ai suoi seguaci un'eredità spirituale preziosa che non deve essere smarita o dimenticata. Proprio perché uomo di Dio, Sant'Ignazio fu fidele servitore della Chiesa, nella quale vide e venerò la sposa del Signore e la madre dei cristiani. E dal desiderio di servire la Chiesa nella maniera più utile ed efficace, è nato il voto di speciale obbedienza al Papa, da lui Sant'Ignazio stesso, qualificato come il nostro principio e principale fondamento. Grazie 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 Grazie